M. Coquelin! Che diavolo c'è? Allora, commedia o tragedia? Tragedia. Commedia. Il titolo? Hercule? Savignon? Cyrano? Un poeta con un enorme... naso? Questa pièce sarà magnifica. Basta solo scriverla. Edmond, nessuno ti conosce e Coquelin ti commissiona una pièce. Champagne? Ho una buona notizia. Sono innamorato alla follia. Jeanne! Un bacio. Parla lei in rima. Devi farla sognare. E che le devo dire? Jeanne! Ah, siete voi. Se le mie parole sono esitanti. Se le mie parole sono esitanti. È perché è notte. È perché è notte. E questo che diavolo c'entra? Ora ho una trama. Christian non ci sa fare con le donne. E allora Cyrano si offre di aiutarlo. La vorremmo più scuccia. Più? Vi prevengo, mio caro paladino, che giusto in fin della licenza... Io tacco. Io tocco. Vi dico con la massima umiltà che stiamo per creare un capolavoro. Ecco l'autore, Edmond Rostand. Un genio. Mai visto nulla del genere. Edmond, hai incontrato qualcuno? Sì. Ho incontrato l'ispirazione. Quest'opera ha qualcosa di speciale. È come se contenesse tutto ciò che io non ho. Il coraggio, l'ironia, l'eroismo. L'amore. L'amore. Vorrei un bacio. Chi dei due? È ridicolo? Ma no, idiota, sei magnifico. Tra dieci minuti in scena.